Siamo alla linea d'arrivo a Courmayeur con Gianluca Galeati, è arrivato quinto in un tempo incredibile, giusto dietro con lei e un altro paio di corridori. Come stai e com'è andata? È andata molto bene perché, diciamo, oltre al crono che siamo riusciti a fare noi primi cinque, cioè sì, al di là, Franco ha ritoccato il suo record, però direi che siamo riusciti a fare tutti e cinque un tempo che credo nelle passate edizioni i primi cinque si siano sempre sognati. Chiaramente l'ha fatto magari il vincitore qualche volta, ma si è vinto con un crono più alto molte volte. Dicevo, la gara è andata bene, è andata bene perché ho avuto davvero pochi problemi fisici e quindi sono contento. Chiaramente a una gara così lunga è facile avere dei problemi. Non ne ho praticamente avuti, è venuto solo fuori un fastidio al ginocchio abbastanza importante. A San Remy mi ha un po' spaventato, però sono riuscito a fare il malattro bene e quindi è andata bene, è andata bene. Posso essere contento. Come hai gestito il caldo prima e la pioggia dopo? Allora, il caldo lo sapevamo un po' tutti e abbiamo cercato di abbassare i ritmi, soprattutto nei punti quelli più caldi. A Donnas, quando passiamo noi, tarda mattinata, con i ritmi più blandi. Faceva molto caldo anche in quota, anche la notte. Infatti abbiamo passato le notti senza metterci giacchetta. La pioggia abbiamo preso temporale ieri, uno stanotte sul Brison, uno degli ultimi colli. C'era qualcosa che girava e non si riusciva chiaramente a prevedere, per cui magari quando arrivavamo in prossimità del collo arrivava. No, quindi però noi appunto che, noi tre o quattro che viaggiavamo così ad alti ritmi, comunque ci siamo anche dato di una mano in questa occasione. Quindi direi che è andato tutto bene. C'è stato un momento in cui hai pensato di non farcela? Ci sono stati momenti difficili? Stavolta ripensandoci forse no. Può capitare, capita spesso in cui magari hai delle crisi e la testa ti porta a trovare ovviamente la scusante per ritirarti. Stavolta no, sono stato sempre bene, più o meno a livello digestivo, che non è mai per nulla banale in questa tipologia di gara qui. Ho gestito il sonno, diciamo che ormai sono proprio micro-micro-soni, ho fatto solo sette minuti stanotte, quindi niente, è andata bene. Per quante ore dormirai dopo questa gara? Non lo so, non lo so. Adesso per ora non ho un gran che. Invece ad esempio, raccontavo prima anche a Silvano, così ho avuto un po' di, gli ultimi, diciamo, momenti proprio in cui si chiudevano gli occhi, li ho avuti qui al Bertone. Prima di arrivare al Bertone ci sono un po' di strappettini in cui fa su e giù e il sonno arriva in salita. In discesa no, chiaramente, quando il corpo è reattivo, in salita si addormenta, soprattutto la notte, con la luce da frontale, quello è il momento più rischioso di tutti, quando si affronta la salita. Quindi ti rivedremo, insomma, al Toro, ormai i valdostani sono affezionati anche a te. Sì, i valdostani sono molto affezionati, ho visto davvero quest'anno come ormai, ovunque passassi, chiaramente. Mi riconoscevano, rifarlo però è impegnativo, è molto impegnativo, quindi ci sono tante cose da infilare, vediamo, vediamo, la famiglia soprattutto. Perfetto, intanto ti auguriamo buon riposo e buona giornata. Grazie mille, ciao.